Tu hai visto un film, visto che sei, hai i tuoi begli anni La cosa dei cappelli Ma io l'ho vista non truccata, adesso la vedi così Quanti anni hai? Scusa? 32 Ne dimostra? 33 Cristo è morto a che anni? 33 Occhio! A febbraio? 25 dicembre 22 22 Ma no, non è così la storia A Natale è nato A Pasqua, a Natale è nato Hai fatto catechismo? Sì Io quel giorno ero assente No, ho seguito tutto Il venerdì di Pasqua Fra un po' c'è Pasqua, occhio No, ho perso il filo Ah no, dicevo che poi Il film Il film, 11 marzo va a vedere Un jukebox 11 marzo, ma che bella sono preso Stavi dicendo una cosa che volevo sapere pure io No, che quando poi Tu stavi dicendo una cosa No, tu stavi dicendo una cosa Ah no, che tu sei totalmente giovane Ti ricordi? I ragazzi irresistibili Un film Tra l'altro da una commedia Vedi che hanno inizi Tu eri di Neil Simon E loro erano Jack Lemmon e Walter Matao I ragazzi No, forse no Sì, uno Jack Lemmon Non so se erano proprio loro due E la storia Devi vederla Una commedia Io e te Fra mille anni potremmo farla Perché sono due ex comici D'anziani Che si ritrovano E' una commedia teaterale Da cui abbiamo fatto anche il film E questi qui Mi sembriamo io e te adesso Cioè ognuno di loro vuole avere l'ultima battuta Bellissimo Grazie fariderissimo Anche nella vita Cioè non possono fare a meno Che averla chiusa La controchiusa Mi riferivo a quello che diceva lui A una maledizione Cioè vivi sempre un po' Guarda lui come è nervoso Sì, sì, sì Adesso ho parlato io Ho detto una casa figata Adesso frega come chiude Andiamo nero Andiamo nero Ciao ragazzi Ciao Guardate lei Più nero di così Grazie a tutti 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 Grazie a tutti